Ben ritrovati amici di Globus Television, ci vedete qui dalla sala conferenze di Torre del Grifo appunto perché come ogni sabato ci ritroviamo per la conferenza pre-gara di Mr. Pino Rigoli, conferenza che questa volta apre quella che sarà la gara tra Catania e Foggia. Una delle squadre più forti del campionato, una delle squadre che attualmente occupa le prime posizioni di questo girone C di Lega Pro, il Catania quindi sarà chiamato a dimostrare e a cercare una continuità che sarebbe sicuramente importante nella fattispecie dopo le due vittorie in campionato con Paganese e Lecce. Ci vedete qui tutti insieme, c'è Enzo Stroscio, c'è Antonio Bottita, c'è il mister Turi di Stefano, c'è Gianluca Virgilito, ci sono io, Alessio Nicotra, Globus Television, come sempre da Torre del Grifo per darvi tutti gli aggiornamenti sul calcio Catania, tutte le interviste e le conferenze stampa. Vi lasciamo le domande al mister Pino Rigoli. Per il finale, per la qualità del gioco, per la qualità degli uomini, perché hanno un piano del gioco che è già da tre anni che è abbastanza colorata, quindi diciamo che c'è per la mia destra che va, per l'uomo che hanno cambiato l'occhio così, ma non lo guarda. Mister, buongiorno, due domande ti voglio fare. Una, per contrastare il Foggia, portare la squadra 20 metri più avanti e bloccare un po' il centrocampo che è molto forte, quindi giocarcelo alla pari, potrebbe essere una soluzione per farli stancare e poi giocarci tutto poi in avanti, perché poi si deve anche segnare. La seconda, se tu fossi un mago, come potresti risolvere il problema mentale di Russotto e di Barisic? Per quanto riguarda il problema di Barisic e Russotto, penso che Barisic non ha nessun problema mentale e neanche Russotto. La verità è che sono due ragazzi, specialmente Russotto, che magari ha vissuto l'ascorso anno qua in un modo, anche se l'ultima parte del campionato l'ha fatta bene. Lui è uno che ci tiene tanto, sia da un punto di vista della sua professione, tiene tanto il suo lavoro, perché è un ragazzo che si allena sempre bene. Quello che lui ha, le capacità che lui ha, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista fisico, magari in questo momento anche lui ce l'ha con se stesso perché non riesce a dare alla squadra quello che lui effettivamente può dare. Noi parliamo, fino a ieri sera abbiamo parlato, cercare di liberarsi di questo blocco mentale, se così lo possiamo chiamare, che lui in questo momento ha, ma che se la prende principalmente con se stesso perché devo dire che nel gruppo c'è grande coesione, ci sono grandi rapporti umani tra di noi e quindi sotto questo aspetto non c'è il problema. Però lui, diciamo, si affligge perché ha questo problema che magari non sta riuscendo a dare quello che lui effettivamente può dare. Per quanto riguarda l'altra domanda... E volevo concludere con Barisic che è stato sempre considerato uno dei migliori giocatori di Lega Pro, è fortissimo, però... Se noi andiamo a vedere il passato di Barisic, il passato di Barisic in Lega Pro l'anno scorso ha fatto poche partite, è andato a Messina e ha fatto 3-4 partite. È un giocatore che noi ci abbiamo puntato fin dall'inizio perché è un giovane che se andiamo a vedere quello che lui ha fatto sia quando era alla primavera del Catania che poi è andato al Milan, io ho visto un po' i video di quello che lui ha fatto. A parte che era un giocatore diverso, un po' più snello e quindi nei movimenti un po' più dinamico, quindi cose che stiamo cercando di riprendere perché effettivamente ha fatto un percorso un po' avverso a quelle che erano le sue caratteristiche. Quindi stiamo cercando di portarlo di nuovo in parametri che secondo noi da un punto di vista strutturale, da un punto di vista fisico possono essere consone a quella che è la sua caratteristica tecnica. Stiamo cercando di velocizzarlo, stiamo cercando di essere meno impacciato nei movimenti, questo è un lavoro personalizzato che noi stiamo facendo. Marx non ha un problema da un punto di vista mentale, è un ragazzo che va gestito, come del resto siamo tutti noi, ognuno di noi è diverso e quindi ognuno di essi va gestito nel modo giusto per cercare di farli rendere al massimo. Ma questo è nel lavoro mio, nel lavoro dello staff, nel lavoro della società, che ogni soggetto ha bisogno di essere gestito nel modo più consono a quelle che sono le caratteristiche del giocatore, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista umano. Quindi questo, ma Marx secondo me sta facendo, ha fatto delle buone cose, a volte ha fatto meno bene, però dico ci sta, ci sta per il fatto che uno per la prima volta a cui lui tiene tanto, che sta facendo tante partite da titolare, ha fatto tanti minuti, cosa che non aveva fatto negli anni, negli anni precedenti. Era quella di contrastare il centrocampo foggiano, è molto forte, portando la squadra 20 metri più avanti e facendoli stancare. Sicuramente proveremo a fare qualcosa, l'abbiamo guardato, l'abbiamo studiato, io li conosco già perché rispetto allo scorso anno hanno cambiato pochissimo, quindi penso che il Catania ha le sue armi per potersela giocare. Io penso che anche loro devono temerci, perché siamo in un buon momento, abbiamo vinto due partite non facili contro Paganese e Lecce, e quindi penso che anche loro devono, ci stiamo andando, non ci stiamo andando con tutto il rispetto, una squadretta, sta andando il Catania con una buona squadra, con una struttura importante sia da un punto di vista societario che tecnico, e quindi penso che anche loro devono temerci. E noi andiamo senza nessun timore reverenziale, assolutamente. Buongiorno, Alessio Nicotra, Globus Television. La partita di Messina è stata anche un'occasione per poter vedere in campo alcuni degli uomini che magari erano stati impiegati meno nel corso del campionato, lei si è detto che è chiaramente deluso del risultato, però vorrei sapere se c'è qualcuno, so che non parla spesso di singoli, però vorrei sapere se c'è qualcuno che l'ha colpita in positivo di questi appunto che non avevamo visto in campionato, e poi un altro focus specifico su dei singoli, Mazzarani, ora l'abbiamo visto, l'abbiamo visto in campo, l'ha provato più volte, quali sono le somme che tiriamo su come si è ambientato Andrea e la crescita di Drauzio partita dopo partita. Allora, per quanto riguarda sui singoli, voi lo sapete che io non parlo dei singoli, ma ho sempre parlato della squadra, magari sui singoli lo fate voi che vi viene meglio che farlo io, no, io ritengo che ci sono state delle risposte positive da parte di qualcuno, qualcuno magari, non so, prendo dei rossi, entra una partita con il Lecce, fa dieci minuti importanti, magari la partita che ha fatta Messina non l'ha fatta per come ha fatta quella con il Lecce, per dire, no? Per tanti motivi, magari sbagli la prima palla e un pochettino ti deprimi. Però, nella sostanza, io mi aspettavo di più da parte di tutti, da un punto di vista dell'agonismo, della determinazione, della voglia che ci dovevamo mettere a vincere la partita. Questa qua, secondo me, è venuta a mancare un po' a tutti, però ormai quella è una partita che è andata e non ci vogliamo pensare più. Per quanto riguarda la crescita di Drauzio, ritengo che sta facendo dei passi importanti, dato che si tratta di uno straniero che viene per la prima volta in Italia e più avanti rispetto agli altri sta facendo delle cose importanti, ancora c'è tanto da lavorare e da migliorare. Andrea ritengo che si sia ambientato bene, però è normale che uno che non è stato in un gruppo, in una squadra, dove le intensità degli allenamenti sono diverse, dove lui si è allenato, è normale che magari in questo momento ha bisogno qualche settimana in più per rientrare al regime. Però diciamo che si è ambientato bene col gruppo e anche dal punto di vista tecnico sta abbastanza bene. Buongiorno mister, Gianluca Virgilito per Globus Television. Due considerazioni veloci su due singoli, Parisi, se è in condizioni di poter entrare in campo, e poi Anastasi, l'abbiamo visto sbracciarsi, sgomitare nella partita contro il Messina, se ha la possibilità di avere una chance contro il Foggia. Sì, sono tutti e due convocati, quindi sono disponibili, domani decideremo i primi undici da mandare in campo. Valerio non ha fatto mai mancare l'impegno, l'applicazione, quelli che sono stati gli allenamenti, in quelle poche partite dove lui ha preso parte. Parisi sta benissimo, ha recuperato, ha fornito, abbiamo detto prima, ha recuperato, e quindi sotto questo aspetto abbiamo l'infermeria quasi vuota, quasi vuota perché abbiamo solo, se non ricordo male, abbiamo solo Sibilli, ma è un fatto che sta riprendendo da quello che è stato l'intervento chirurgico.